bene, siamo andati su Sketchfab e abbiamo scaricato un modello, un kit con tante cose dentro abbiamo visto che ci possiamo scaricare il punto blend qui abbiamo un esempio di un ufficio con tante cose interessanti adesso andiamo a vedere come interagire con questo quindi entriamo dentro con Blender, Blender ultima versione 3.3.0 entrando con questa versione vediamo che praticamente abbiamo il nostro ufficio che è questo abbiamo caricato appunto il punto blend abbiamo altresì caricato andando qui dove c'è scritto scripting abbiamo fatto un new di un text quindi siamo andati qua e siamo andati a mettere il programmino che vedete che è questo pastebin abbiamo copiato questo copy, copy row e poi siamo andati in Blender in questo caso abbiamo fatto il nostro qui qui abbiamo fatto il new text e questo new text abbiamo fatto ctrl v e ci abbiamo messo questo script questo script cosa fa? praticamente andiamo su uno degli oggetti della nostra scena e in questo oggetto, ad esempio questo qui che è il Tazebau l'abbiamo praticamente rinominato quindi siamo andati sul... qui c'è scritto qualcosa come cube 22 e cose del genere siamo andati qui sul gerarchia abbiamo fatto F2 e l'abbiamo rinominato Tazebau una volta che è rinominato come Tazebau lo selezioniamo in teoria potremmo farlo su tutto selezionare tutti una volta che abbiamo cambiato il nome dentro la gerarchia e una volta che abbiamo... adesso il video lo faccio solo sul Tazebau vedete che è giallino lo clicco dopodiché nel file devo cambiare la cartella dove voglio che siano messe queste cose la cartella dove voglio che siano messe queste cose si chiama Ufficio anni 60 quindi andiamo qui la chiamiamo C Ufficio anni 60 cambiamo Ufficio anni 60 vedete che è fatto tutto questo una volta che lo script è pronto con il base dir che abbiamo cambiato andiamo poi a fare text il run dello script e il run dello script praticamente ci genera dentro la cartella Ufficio anni 60 in realtà tre cose quindi un punto GLB per Tazebau un punto MTL un punto OBJ a noi ci interessa probabilmente il punto GLB se facciamo doppio clic su il punto GLB vedete che ecco che sta arrivando il nostro visualizzatore 3D vedete che ha effettivamente isolato soltanto questo oggetto e questo oggetto punto GLB è direttamente importabile in altri mondi virtuali come ad esempio Ecospaces o altro e quindi questo è più o meno tutto spero che sia sufficiente se ci sono dei problemi quindi nel link del video metto ulteriori dettagli sullo script e sugli indirizzi diciamo di questo ufficio